Cari fratelli e sorelle, oggi parliamo e ascoltiamo le parole di una delle figure più affascinanti e profonde del XX secolo, Suor Faustina Kowalska, l'Apostola della Divina Misericordia. La sua vita e il suo messaggio hanno cambiato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, invitandoci a riflettere sulla sconfinata misericordia di Dio, sulla nostra personale conversione e sul potere della preghiera. Immaginiamo per un attimo Suor Faustina, umile Suora Polacca, inginocchiata davanti al suo Signore, in un dialogo d'amore che va oltre il tempo e lo spazio. Un dialogo che non appartiene solo a lei, ma a ciascuno di noi. Ma chi era davvero questa donna di straordinaria fede? E cosa ci insegna oggi? Nata il 25 agosto 1905 in un piccolo villaggio della Polonia, Elena Kowalska, come fu chiamata alla nascita, proveniva da una famiglia povera ma profondamente devota. Fin dalla tenera età, sentì nel suo cuore il richiamo di Dio, ma dovette affrontare molte sfide e difficoltà prima di poter rispondere a questa chiamata con pienezza. A vent'anni entrò nel convento delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, prendendo il nome di Suor Maria Faustina. Nonostante la sua vita semplice, fatta di umiltà e sacrificio, fu scelta da Gesù per essere un canale attraverso cui la Sua Misericordia si sarebbe riversata sull'umanità. Il Signore le apparve molte volte, rivelandole i segreti del suo cuore misericordioso. Fu proprio a lei che Gesù diede il compito di diffondere il messaggio della Divina Misericordia, un messaggio che oggi è conosciuto in tutto il mondo, attraverso la devozione alla coroncina della Divina Misericordia e la festa della Divina Misericordia, celebrata la domenica successiva alla Pasqua. Ma c'è un momento speciale nella vita di Suor Faustina che merita tutta la nostra attenzione. È un momento in cui, trovandosi davanti a Gesù, fa un'offerta straordinaria, un atto di amore puro e incondizionato, che riflette la profondità del suo rapporto con Dio e il suo desiderio di portare la salvezza alle anime. Ascoltiamo attentamente le sue parole. Di fronte al cielo e dalla terra, di fronte a tutti i cori degli angeli, di fronte alla Santissima Vergine Maria, di fronte a tutte le potenze celesti, dichiaro a Dio, Uno e Trino, che oggi, in unione con Gesù Cristo, Redentore delle anime, faccio volontariamente l'offerta di me stessa per la conversione dei peccatori e specialmente per le anime che hanno perso la speranza nella Misericordia Divina. Detta offerta consiste in questo, che prendo con totale sottomissione alla volontà di Dio tutte le sofferenze, i timori e le paure da cui sono tormentati i peccatori, ed in cambio cedo loro tutte le consolazioni che ho nell'anima, che provengono dal rapporto intimo con Dio. In una parola offro per loro tutto, le sante messe, le sante comunioni, le penitenze, le mortificazioni, le preghiere. Non temo i colpi, i colpi della giustizia di Dio, perché sono unita a Gesù. O mio Dio, desidero in tal modo ripagarti per le anime che non hanno fiducia nella Tua bontà. Confido contro ogni speranza nell'oceano della Tua misericordia. O Signore e Dio mio, porzione, mia porzione per l'eternità, non formulo questo atto di offerta basandomi sulle mie forze, ma sulla potenza che deriva dai meriti di Gesù Cristo. Ripeterò ogni giorno questo atto di offerta con la seguente preghiera, che Tu stesso mi hai insegnato, o Gesù. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi. Confido in Te. Queste parole, così intense e profonde, rivelano il cuore di una donna totalmente abbandonata alla volontà di Dio. Suor Faustina non solo accoglie le sofferenze dei peccatori, ma le fa sue. Si offre come strumento per la loro conversione, dando tutto ciò che ha, le sue preghiere, le sue penitenze, le sue consolazioni. È un atto di sacrificio totale, che riflette il sacrificio di Cristo sulla croce. Ma c'è di più. Suor Faustina ci invita a confidare contro ogni speranza, a gettarci nell'oceano della misericordia di Dio, anche quando tutto sembra perduto. Fratelli e sorelle, cosa ci insegna Suor Faustina oggi? In un mondo che spesso sembra smarrito, pieno di disperazione e paura, il messaggio della divina misericordia è un faro di speranza. Suor Faustina ci ricorda che non esiste peccato così grande che non possa essere perdonato, non esiste abisso così profondo da non essere raggiunto dalla misericordia di Dio. Ma ci invita anche a fare la nostra parte, a diventare strumenti di misericordia per gli altri. Il suo esempio ci mostra che la vera forza non viene da noi stessi, ma dalla nostra unione con Cristo. Proprio come Suor Faustina ha trovato la forza per fare la sua offerta nel sacrificio di Gesù, anche noi possiamo trovare la forza per affrontare le sfide della vita nel suo amore. Non importa quanto ci sentiamo deboli o indegni, Dio ci ama e ci chiama a partecipare alla sua opera di salvezza. Suor Faustina ci invita a pregare, a offrire le nostre sofferenze per la conversione dei peccatori e a confidare sempre nella misericordia di Dio. Ogni volta che recitiamo la coroncina della divina misericordia, ogni volta che ci affidiamo alla sua bontà, stiamo partecipando a questa grande missione di salvezza. Ora, fratelli e sorelle, è il momento di agire. È il momento di rispondere a questa chiamata alla santità, alla misericordia, all'amore incondizionato. Suor Faustina ci ha mostrato la via, ci ha dato l'esempio di cosa significa abbandonarsi completamente alla volontà di Dio. Oggi, Gesù ci chiama a fare lo stesso. Vuoi entrare a far parte di questa grande missione di misericordia? Vuoi essere uno strumento nelle mani di Dio per portare luce e speranza in un mondo che ne ha tanto bisogno? Se la risposta è sì, ti invito a pregare con me, a unirti a questa comunità di fede e preghiera. O Gesù, fonte infinita di misericordia, ci inginocchiamo davanti a te, come fece Suor Faustina, per affidarti ogni parte di noi. Riempi i nostri cuori del tuo amore, trasforma le nostre debolezze in strumenti della tua grazia. Aiutaci a confidare contro ogni speranza, ad abbandonarci completamente al tuo volere, anche quando le tempeste della vita ci sovrastano. O cuore misericordioso di Gesù, ti offriamo tutte le nostre sofferenze, le nostre preghiere e le nostre speranze, affinché possano essere di consolazione per coloro che vivono nella disperazione e nel peccato. Come Suor Faustina, desideriamo essere strumenti della tua misericordia per la conversione dei peccatori e per portare pace nelle animi che hanno perso la fiducia in te. O sanghe e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Donaci la forza di offrire ogni giorno le nostre vite, come sacrificio d'amore, per la salvezza delle anime e per la tua gloria eterna. Gesù misericordioso, guida i nostri passi sulla via della santità e fa che, come Suor Faustina, possiamo vivere uniti a te, portando speranza e luce a chi è nel buio. Amen. Gesù, confido in te. Cari fratelli e sorelle, fateci sapere cosa ne pensate e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i nuovi video ed entrare a far parte della comunità di fede e preghiera. Insieme possiamo diffondere il messaggio della divina misericordia e trasformare il mondo, un'anima alla volta. Che Dio benedica tutti noi.